Buongiorno, come state? Spero bene. Ci stiamo avvicinando al Sincha Torah. Sincha vuol dire la gioia, la gioia della Torah. Perché gioire? Perché il dono della Torah è stato un dono meraviglioso. In questa Torah ci sono regole per vivere civile, regole anche alimentari, regole anche mediche, come riconoscere certe malattie da altre. Non per niente, ma ve l'ho detto, molti rabbini, soprattutto i rabbini che eseguono la Brit Millah in Europa, ma in Italia, sono tutti medici. Perché in Italia non si può fare la circoncisione se non si è medici. Ed è anche giusto. Comunque, volevo fare solo un appunto perché vi avevo spiegato dei sette Uishpitzim divisi per ogni giorno della nostra permanenza dentro la Sukkah, nella festa di Sukkot. Capanna, capanne. E' vero che ogni giorno ha un suo Uishpitz, ma tutti i sette Uishpitzim ci sono in questa, diciamo, Sukkah, sono presenti in questa capanna. Ma diciamo che ogni giorno è uno che è protagonista ed è una dote, diciamo, una virtù, una sefira che domina. Quindi partendo da, abbiamo detto, da Chesed per arrivare poi a Malkuth. Allora, la gioia della Torah sembra una stupidaggine per molti che dicono, ma no, è un libro, poi adesso cosa dite? Che quel libro parla di alieni, parla di guerra, parla di questo, parla di quello. Ve l'ho detto, no? Che quanta gente ci ha speculato e fatto i soldi su questo libro. Ma chi l'ha letto in originale, ha capito che è un codice alfa numerico. Io oserei dire che è un codice di connessione e riconnessione con il creatore, con la connessione, con il creatore, con la creazione e con le creature. Quindi questo codice alfa numerico chiamato Torah serve, a mio parere, a riconnetterci con il creatore, con la creazione, con le creature. E quando parlo di creature, non intendo come questo mondo concepisce che c'è il mondo vegetale, animale, che è vivo. No, io ritengo che un'anima ce l'abbiano anche le pietre, gli astri, le stelle. Come è descritto nella visione della Kabbalah. Si dice che quando una pietra parlerà o un albero gli risponderà. Perché saranno così emozionati a vedere due persone che calpestano la terra, la Dama, parlando di Torah. Buon sincha Torah a tutti. Un abbraccio forte forte. Vi mando pace e illuminazione e vi auguro la gioia della Torah. Vi auguro sincha Torah. Sincha Torah e Salome, salome.